Sebastian Vettel con la Red Bull nel Gran Premio di Monza di Formula 1 ha vinto davanti a Jenson Button con la McLaren. Fernanda Lons con la Ferrari ha conquistato il terzo posto, mentre l'altra rossa condotta da Philippe Massa è giunta sesta. Con la vittoria sul circuito della Brianza, il pilota tedesco ha conquistato l'ottavo successo stagionale con la Red Bull e rafforza la posizione di leader mondiale di Formula 1 raggiungendo quota 284. Secondo posto per Fernanda Lons a quota 172 nella classifica costruttore dominio della Red Bull con 451 punti, seconda la McLaren a 325 e la Ferrari è terza a quota 254. Alla presenza di quasi mille persone, il pilota Michael Schumacher nella serata di giovedì 8 settembre nei giardini della sede della Confartigenato di Monza è stato premiato da Confartigenato Motori col volante d'oro, un riconoscimento speciale per i suoi 20 anni di carriera automobilistica. Il campione germanico ha conquistato sette volte il titolo di campione del mondo, dei quali cinque titoli ridati conquistati alla Ferrari. Il volante d'oro realizzato dall'artigiana brianzola Laura Ferrario consiste in un volante di Formula 1 lavorato a mano su base di legno secondo una tecnica tradizionale monzese con rilievi in foglia d'oro e con due targhe in vetrofusione con dedica in oro zecchino. Nel ventiduesimo rally internazionale del Veneto ha vinto l'equipaggio formato da Sergio Denaro e Gaetano Abate alla guida della Swiss in versione R2. Con questa affermazione il duo siciliano si è portato al comando della classifica della Suzuki Rally Cup. Sarà quindi il cinquantatreesimo rally di Sanremo a decidere il vincitore della quarta Suzuki Rally Cup. Infatti sono ancora ben quattro i piloti in grado di aggiudicarsi la classifica finale ed esattamente Denaro, Arati, Peloso e Gubertini. La penultima tappa della Yamaha R Series Cup 2011 è andata in Siena domenica 11 settembre 2011 sul circuito Piero Taruffi di Vallelunga. Nella R6 Metzeler Cup ha vinto il pilota Danilo Paoloni mentre nella R1 Akrapov Cup affermazione di Andrea Manici. Nel settimo round del CIV il campionato italiano di velocità della Moto2 il pilota Nicolas Stizza con la GAPAM del Grillini Racing Team di Mercatale di Ozzan Emilia si è classificata al quarto posto nella sua categoria. Il prossimo appuntamento della Yamaha R Series Cup 2011 e del CIV è domenica 23 ottobre 2011 all'autodromo del Mugello. La Ducati, in attesa delle novità che verranno presentate a novembre all'Eicma di Milano ha iniziato a togliere i veli alla prima delle due moto che caratterizzeranno il 2012 Mad in Borgo Panigale. Arriva sulla Sena il nuovo Stark Fitcher 848 anticipata dalle prime immagini scattate in studio pronto a garantire divertimento pure agli appassionati delle moto Naked. Il nuovo modello della gamma Ducati sarà disponibile già a partire da novembre 2011.